Leonardo Totaro dello Spinete, prestazione importante da parte vostra, ma quanta amarezza c'è per questo risultato per aver prodotto voi le migliori occasioni prima di andare in svantaggio? Sì, è come hai detto, purtroppo questa che hai fatto è l'analisi nostra del campionato, un campionato dove ci vede protagonisti in più di ogni partita, ma che a fine dei conti ci vede portare a casa sempre il minor numero di punti. Purtroppo c'è da lavorare e attualmente non possiamo fare altro che ripresentarci martedì con più forza e più energia, più determinazione, lavorare e cercare di far meglio già da sabato. Nonostante la sconfitta però si è vista la mentalità giusta che con una squadra come il Terromaggiore, che è in salute, ha una classifica diversa, viene da quattro vittorie consecutive, la mentalità è stata quella giusta, forse un po' di cattivera sottoporta, forse questo è mancato. Sì, non tanto dal punto di vista di cattiveria, più di tranquillità, perché come detto loro naturalmente hanno una classifica che li ha giovato nella tranquillità di poter anche aspettare i nostri attacchi per poter poi ripartire in contropiede. Noi abbiamo fatto dal primo minuto, penso fino alla fine, sempre un costante attacco nei loro confronti. Purtroppo è vero, io ho avuto un'occasione molto importante che ho sciupato e purtroppo si dice che la palla è tonda e quindi a volte va, a volte no. Abbiamo preso un gol su un altro cross, cioè dove la palla andrà direttamente in porta, questo è sinonimo anche di poca fortuna, ma non è questo il motivo per il quale ci troviamo in questa classifica. La motivazione principale è che a volte bisogna solo accettare la sconvitta e andare avanti e essere più determinati per la prossima.